La distruzione della diga di Kakovka è stato un disastro in rapida evoluzione che si sta trasformando in una catastrofe ambientale a lungo termine che colpisce l'acqua potabile, le forniture alimentari e gli ecosistemi fino al Mar Nero. I pericoli a breve termine sono visibili dallo spazio, decine di migliaia di appezzamenti di terreno sono stati allagati e altri ne verranno. Secondo gli esperti, le conseguenze a lungo termine saranno generazionali. L'Associated Press ha riferito che per ogni casa e fattoria allagata, ci sono campi e campi di cereali, frutta e verdura appena piantati i cui canali di irrigazione si stanno prosciugando. Migliaia di pesci sono stati lasciati a boccheggiare sulle piane di fango. Gli uccelli acquatici in erba hanno perso i loro nidi e le loro fonti di cibo. Innumerevoli alberi e piante sono stati annegati. Se l'acqua è vita, il prosciugamento del bacino di Kakovka crea un futuro incerto per la regione dell'Ucraina meridionale, che fino allo sbarramento del fiume Dnipro, 70 anni fa, era una pianura arida. La diga di Kakovka era l'ultima di un sistema di sei dighe di epoca sovietica sul fiume, che scorre dalla Bielorussia al Mar Nero. Poi il Dnipro è diventato parte della linea del fronte dopo l'invasione russa dello scorso anno. Tutto questo territorio formava un ecosistema particolare, compreso il bacino idrico, ha dichiarato Caterina Figliuta, esperta di Habitat Protetti per il Gruppo Ucraino per la Conservazione della Natura. La Reuters riporta che due droni si sono schiantati nelle prime ore di domenica nella regione russa di Kaluga, come ha dichiarato il governatore della regione, Vladislav Shapsha, sull'applicazione di messaggistica Telegram. Un drone si è schiantato vicino al villaggio di Strelkovka, un altro nei boschi del distretto municipale di Medinsky. La regione di Kaluga confina a nord con la regione di Mosca. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime e i danni sono stati minimi, ha detto Shapsha su Telegram. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente la notizia. All'inizio della giornata in Russia, 15 vagoni di un treno merci vuoto sono deragliati nella regione meridionale di Belgorod, al confine con l'Ucraina, ha dichiarato il governatore locale nella tarda serata di sabato, aggiungendo che non vi erano informazioni immediate sulle cause. L'incidente è avvenuto vicino a una stazione ferroviaria nel distretto municipale di Alekseyevski e il treno era vuoto, ha detto Vladkov. La Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente questa notizia. L'Islanda ha deciso di sospendere le operazioni della sua ambasciata a Mosca a partire dal 1 agosto, diventando il primo paese a farlo. In risposta, il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che «risponderà alle azioni antirusse di Reykjavik e ha accusato l'Islanda di «rovinare le relazioni tra i due paesi». Il Ministero ha anche affermato che terrà conto di questa decisione ostile quando stabilirà le relazioni con l'Islanda in futuro. Il Ministero degli Esteri islandese ha sottolineato che la decisione di sospendere le operazioni dell'Ambasciata non costituisce una rottura delle relazioni diplomatiche, ma che i legami commerciali, culturali e politici con la Russia sono ai minimi storici, rendendo il mantenimento delle operazioni dell'Ambasciata a Mosca non più giustificabile. Trattino. L'azienda svedese Essity ha annunciato di aver concluso un accordo per la cessione delle sue attività in Russia, che dovrebbe essere finalizzato nel secondo trimestre del 2023. Non è stato specificato chi ha acquistato le attività russe né per quale importo. Essity ha sottolineato che le vendite in Russia rappresentavano solo il 2% delle sue vendite globali e che l'uscita dal mercato russo non avrebbe probabilmente avuto un impatto significativo sulle sue entrate complessive. L'azienda aveva annunciato il ritiro dalla Russia lo scorso aprile a causa del deterioramento delle condizioni commerciali. L'uscita di Essity dalla Russia si aggiunge all'esodo aziendale che ha coinvolto migliaia di aziende straniere dal paese dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali. Attualmente, circa 2000 aziende straniere attendono il permesso del governo russo per vendere le loro attività in Russia e rimpatriare i loro capitali all'estero. Il think tank statunitense Institute for the Study of War ha riferito che le forze ucraine stanno conducendo operazioni di controffensiva in almeno quattro aree del fronte in Ucraina. Il portavoce del gruppo di forze orientali ucraine ha dichiarato che le forze ucraine sono avanzate fino a 1.400 metri in aree non specificate del fronte di Bakhmut, mentre fonti russe hanno riferito di attività ucraine nell'oblast di Luansk e nell'area di confine tra Danetsk e Zaporizia. Il think tank ha sottolineato che i filmati geolocalizzati pubblicati il 10 giugno indicano anche che le forze ucraine nell'oblast di Zaporizia occidentale hanno guadagnato durante i contrattacchi a sud-ovest e a sud-est di Orykiv. Tuttavia, ISW ha anche notato che le forze ucraine hanno subito perdite negli attacchi iniziali contro alcune delle forze russe meglio preparate in Ucraina. È importante notare che gli attacchi iniziali e i filmati selezionati che le fonti russe stanno diffondendo non sono rappresentativi di tutte le operazioni ucraine in corso. Il Ministero degli Esteri russo pubblica l'elenco dei 28 presunti attacchi IMARS dell'Ucraina contro la diga di Kakovka, sostenendo che «attacchi metodici» hanno causato il disastro di Kherson. I diplomatici russi continuano a sostenere che i presunti «attacchi metodici» dell'esercito ucraino contro la centrale idroelettrica di Kakovka sono responsabili del crollo della diga avvenuto il 6 giugno. Facendo ecco ai commenti del rappresentante di Mosca presso le Nazioni Unite subito dopo il disastro, la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha pubblicato un elenco di «oltre 300» missili IMARS che l'Ucraina avrebbe sparato contro la diga tra luglio e novembre 2022. Come Vaseline Benzia, anche Zakharova ha citato un'intervista rilasciata dal maggiore generale Andriy Kovalchuk all'Washington Post nel dicembre 2022, in cui l'ufficiale ucraino descriveva un riuscito «attacco di prova» con un lanciatore IMARS a una delle paratoie della diga di Nova Kakovka, sperimentando un'opzione «di ultima istanza» per innalzare le acque del fiume Dnipro abbastanza da «ostacolare gli attraversamenti russi» ma non inondare i villaggi vicini. Nel suo post sul social network Telegram, la Zakharova ha pubblicato un elenco di quelli che, a suo dire, sono stati 28 colpi di artiglieria separati contro la centrale elettrica di Kakovka, sostenendo che questi attacchi hanno causato il crollo della diga il 6 giugno 2023. I funzionari russi hanno offerto molteplici spiegazioni per la distruzione della diga, dando sempre la colpa all'esercito ucraino e alle nazioni occidentali che hanno fornito a Chievarmi avanzate. Oltre a parlare di ripetuti attacchi missilistici da parte del Ministero degli Esteri, i funzionari di Mosca hanno affermato che gli agenti ucraini hanno «sabotato» la centrale elettrica piazzando in qualche modo degli esplosivi al suo interno. Sebbene i portavoce del governo statunitense abbiano avvertito che le prove disponibili rendono ancora difficile attribuire la responsabilità della distruzione della diga, gli esperti hanno dichiarato al New York Times che «un'esplosione in uno spazio chiuso avrebbe causato i danni maggiori e costituisce la spiegazione più plausibile». I dati sismici raccolti dall'osservatorio Norsar in Norvegia e i filmati registrati dai sensori a infrarossi dei satelliti spia statunitensi mostrano che un'esplosione si è verificata presso la diga, poco prima che crollasse. I funzionari ucraini affermano che le forze russe, che controllavano la centrale elettrica e occupavano la città che ospitava l'impianto, sono responsabili della distruzione della diga. Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo rinuncia all'esibizione di una popolare rock band in seguito a una denuncia sulle posizioni antibelliche del suo cantante. La rock band russa Zveri non si esibirà in un concerto programmato durante il prossimo Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, a seguito di una denuncia contro il cantante del gruppo, Roman Bilic, per le sue dichiarazioni contro la guerra e il suo rifiuto di esibirsi nella Crimea annessa. L'agenzia di stampa Astra riferisce che all'inizio di giugno il rettore del Dipartimento di Giornalismo dell'Università Statale di Mosca, Yuri Kot, ha scritto sul suo blog che Bilic appartiene a una «quinta colonna» di traditori. In seguito, un legislatore locale ha presentato una richiesta ufficiale all'ufficio del procuratore distrettuale, chiedendo la cancellazione del concerto di Zveri previsto per il 16 giugno. Nato in Russia, Bilic ha vissuto a Mariupol per diversi anni e ha trascorso del tempo anche a Kiev. Suo padre è ucraino. In diverse occasioni, il gruppo Rock Zveri si è espresso contro l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Al momento in cui scriviamo, i rappresentanti del gruppo non hanno commentato pubblicamente la cancellazione del concerto.